Elezioni presidenziali e legislative oggi nel Nicaragua e Daniel Ortega è praticamente certo della rielezione grazie anche alle divisioni dell'opposizione di centrodestra. Il presidente è stato autorizzato a ricandidarsi da una sentenza della Corte Suprema controllata dal suo stesso partito. Nelle liste del partito sandinista di Ortega c'è anche un cugino di Gheddafi.